Notizia di La Scuola 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 Notizia di La Malezza in connessione con il ralamento di rocea, lo che è che non è d'una di conoscere. E la parte probabilmente più afezione è la parte sul dell'Europa. E la parte dell'Europa è probabilmente più afezione è la parte più afezione di olano di calore e anche sicura, quindi la maggior parte della gente vive in Italia, Grecia, Spagna, Croazia, Cipro, Malta, Portugal e Slovenia probabilmente lo può essere afezionato per il desastre del climatologico, causando 700 morti di ogni 1 milione di gente, secondo che ogni anno passa. E la parte che si fanno, è una cifra che è espantosa, quindi devo tenere a conto che una di ogni 3 persone lo può essere afezionato ogni anno nella parte del nord dell'Europa, in quanto si fanno afezione di Dinamarca, Islandia, Finlandia, Norvega e anche Suecia. E la cifra che è assombrosa, che sono praticamente, ma non mi uso del numero di tutti, ma non mi uso del mondo, ma non mi uso del mondo, e la cifra che è assombrosa o fa non è assombrosa. while non mi uso del mondo qui. E l'agre e forse è il prossimo tema. Grazie a tutti. E ogni giorno, vi prendo un giorno di tutti, e ciò cantano una volta, ora voglio riuscildri in discussion climate, ora voglio riuscire in discussione, non voglio riuscire in situazione, come volto un po' alla vita. Sì, ciò ascoltate qui ogni anno è lì, la scuola è lì, di notizia e presentazione. Sì, è una rivista che si chiama Newsweek, è una nuova nuova, è una portata di Donald Trump, è un canale più favorito di Fox, è un po' di tempo, è un po' di difficoltà, ma è un enemigo più di CNN, è un enemigo più di la maggior parte della cadena, è noticioso in America, CNN è sicuro che è un po' di più grande del suo ovo, per il motivo che è un po' di tempo, 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 che non è una questione contraria, non è una cosa che non ci sia una notizia reale, sia una notizia che si è una notizia reale, sia una notizia che si è una notizia reale, per rispottare la gente, perché la mia notizia nulla non è una notizia reale, perché è una notizia reale che è una notizia reale, è una notizia reale, è una notizia reale, è una notizia reale, ma non ci sia un buon retirement, ma disse hierzzi sul nostro program chamomito, è un po' di tempo, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.